Dopo la Sardegna anche la Toscana in vista della Pasqua prova a blindare le proprie località costiere da un nuovo arrivo di coloro che qui hanno la seconda casa. Il Tarra nelle scorse settimane ha bocciato l'ordinanza del governatore Gianni che dava la possibilità di entrare nella regione solo se qui si aveva il medico di famiglia. Così i tecnici della regione hanno messo a punto un nuovo testo che dovrebbe vietare i trasferimenti in vista delle festività pasquali quando tutta l'Italia sarà rossa. I sindaci hanno già chiesto misure molto restrittive e adesso manca soltanto il parere della regione che dovrebbe allinearsi a quanto già deciso da altre regioni, no alle seconde case andando contro la linea del governo che invece di apertura agli spostamenti. Provvedimenti illegittimi secondo il costituzionalista Pietro Ciarlo. Le regioni non possono bloccare gli arrivi dice Repubblica, solo il governo nazionale può limitare la libera circolazione tra le regioni. I controlli in ingresso disposti a livello regionale sono già ai limiti di ciò che l'ordinamento può contemplare. Insomma, una cosa è disporre l'obbligo di tampone negativo per chi arriva, come ad esempio fa la Sicilia ormai da tre mesi. Altro è impedire l'ingresso e privare i cittadini dell'utilizzo di un bene inalienabile come la propria seconda casa. In attesa del documento di Gianni, i 16 sindaci dei comuni costieri lanciano un appello. Non venite, non vogliamo essere inospitali, aiutateci a controllare la pandemia nell'interesse di tutti.